E' tempo dei saluti per il comandante provinciale dei carabinieri Gianluigi Cirtoli, a salutare anche Guerrino Roberto Spina e Maximiliano Papale, rispettivamente comandanti delle compagnie carabinieri di Pesaro e Fano. I tre oggi hanno incontrato la stampa in vista del trasferimento a nuova destinazione. Sono stati anni importanti, ha detto il comandante provinciale Cirtoli, abbiamo affrontato diversi eventi, dai femminicidi agli omicidi, senza dimenticare l'alluvione. Grandi interventi, ma anche piccoli, come quelli svolti ogni giorno a Fano e Pesaro. Il colonnello Gianluigi Cirtoli si trasferirà a Bologna, al suo posto in arrivo da Vibo Valencia, il colonnello Alessandro Corda. Purtroppo di omicidi ne sono accaduti, di femminicidi ne sono accaduti, abbiamo avuto anche degli eventi alluvionali che hanno caratterizzato la nostra provincia, la nostra regione e anche le regioni con termini. Quindi in tutte quelle situazioni, logicamente chi ha operato è operato al meglio, perché abbiamo risolto tutti gli omicidi che ci sono stati, non si risolvono da soli questi omicidi e anche gli interventi che ci sono stati nel corso di questi due eventi alluvionali significano o rendono necessario il fatto, rendono esplicito il fatto che comunque bisogna essere sempre pronti nel quotidiano, anche quando ci sono le cose ordinarie. Anche lì bisogna sempre restare attenti. Importante è la collaborazione con i cittadini, sottolinea l'ex comandante della compagnia di Fano, Maximiliano Papale. Quest'ultimo si trasferirà a Cesena. Al suo posto il tenente Giuseppe, esposito da Falconara Marittima. Sul territorio fanese è l'operazione più importante, quella che ricorderà con piacere? Ne abbiamo fatte diverse, quindi dallo spazio di stupefacenti, con dinamiche, siamo arrivati anche nell'Interland napoletano, abbiamo collaborato con il comando provinciale nel femminicidio di Anastasia. Insomma sono tanti per il momento dell'alluvione, dove è stata salvata in particolare una vita umana a Cantiano, dei carabinieri della stazione. Con le operazioni di servizio ne abbiamo fatte diverse, dove abbiamo anche certificato delle colleganze con regioni in particolare del meridione, parlo in particolare della campagna, stroncando anche dei traffici di stupefacenti importanti, quindi una in particolare non me ne viene. Lo ripeto, è l'impegno costante, l'impegno quotidiano che poi porta alla fine i risultati che è il totale, insomma, che è importante. Per il comandante della compagnia Carabinieri di Pesaro, Roberto Spina, c'è gioia per aver reso tranquillo e sereno il territorio pesarese. È stato grande l'impegno messo in campo contro il traffico di droga e i reati di codice rosso. Per il tenente colonnello Spina, futuro a Reggio Calabria, in arrivo a Pesaro da Frosinone, il tenente colonnello Maurizio Petrarca. Problematiche ne abbiamo avute, tante se sono messe in relazione al numero dei militari e alla popolazione che abbiamo. Chiaramente è un territorio ancora fra i migliori d'Italia, io ritengo, però quello è stato il nostro impegno, preservarlo. E quindi ci ha visto impegnati, spesso anche a discapito interessi personali e familiari.